dei loro bambini, quindi bravissimi per questo impegno, bravissimi a tutta l'equipe dell'ospedale e un invito a proseguire in questo ambito. Noi siamo grati a UNICEF per questo riconoscimento, siamo orgogliosi perché testimonia il percorso di eccellenza che ha intrapreso l'ospedale, che anzi ha ripreso e confermato l'ospedale, amico dell'omino funico e grazie a un'idea illuminata dei due protagonisti e il lavoro di equip che è stato fatto e organizzato da parte di tutti loro. Grazie ai medici, capofila di questo progetto e grazie a tutti gli operatori che avete formato e che continuate a formare con continui corsi di aggiornamento per portare il giusto messaggio in una maniera corretta le mamme e i bambini. Grazie, anche perché non è solo un percorso per i bambini ma anche un percorso per le mamme, una garanzia fa sì che il percorso per le mamme sia il più fisiologico possibile, evitando la medicalizzazione. Esatto, e che questo impegno di cuore di tutta la struttura ospedaliera venga poi diffuso sul territorio con la creazione e l'apertura di tanti baby pit stop, quindi punti gratuiti per le mamme dove possono fermarsi per adattare, per cambiare il pannolino. Grazie. Speriamo di aver dato un contributo all'inizio di un percorso che coinvolgea l'intera provincia e l'unificio delle mamme. Grazie a nome dei bambini che aiutate le loro mamme. Grazie. Grazie. Grazie.